E' una data certa solo sul calendario, quella di martedì 24 novembre. La riapertura della scuola resta una chimera, una storia senza fine, non quella dei programmi scolastici. De Luca lo scorso 5 novembre ha disposto la chiusura di tutte le scuole fino al 14 novembre. I genitori hanno fatto ricorso al TAR per chiedere la riapertura con tanto di proteste in piazza. L'organo amministrativo regionale dà ragione alla scelta del governatore che successivamente con la zona rossa in Campania con un'altra ordinanza attiva un percorso con il monitoraggio del covid immaginando la riapertura della scuola dell'infanzia e la prima elementare. Scuole aperte, nuovo ricorso al TAR dei genitori nuovamente respinto, ma intanto i sindaci di molti comuni hanno scelto autonomamente di lasciare la didattica a distanza, posticipando ancora una data per la riapertura con sindaci che si sono spinti fin anche a gennaio 2021. La strada sembra oggi ormai nuovamente tracciata con le parole del governatore De Luca che ieri ha fatto intendere che non ci sarà nessuna riapertura degli asili in Campania il prossimo 24 novembre in assenza di condizioni certe dal punto di vista sanitario. E' questo lo scenario verso il quale va la Campania. Abbiamo approvato un'ordinanza, ha detto De Luca, ricordando nel suo intervento social, che prevede la possibile riapertura degli asili e delle prime elementari. Ma abbiamo subordinato quest'eventuale apertura ad un accertamento epidemiologico. In questo momento abbiamo un'ondata di richieste per non aprire, con genitori seriamente preoccupati. Allora la riapertura per il 24 era una previsione, ma noi non apriremo nulla se non avremo la sicurezza dal punto di vista epidemiologico. Abbiamo scelto una linea di rigore e la manterremo. Non apriremo nulla se non ci saranno condizioni di assoluta tranquillità. Qui potrei farvi sorridere perché voi sapete che quando abbiamo chiuso le scuole, apriti c'ero. C'è stata una rete televisiva nazionale che praticamente ha sponsorizzato le manifestazioni delle mamme. Poi andavamo a vedere, le mamme non c'erano. Dieci persone disponibili a mettere un cartello in alto e le troviamo sempre. In questo momento abbiamo un'ondata di richieste per non aprire. Cioè i genitori sono sinceramente preoccupati. Allora la riapertura mi pare per il 24 era una previsione, ma noi non apriremo nulla se non avremo la sicurezza dal punto di vista epidemiologico. Mica abbiamo voluto scherzare in questo mese. Abbiamo scelto una linea di rigore di tutela della vita dei bambini, delle loro famiglie, dei loro compagni di scuola. Manterremo una linea di rigore. Quindi non voglio anticiparvi nulla, ma è possibile, forse è probabile, che non si riapra quando abbiamo previsto di aprire. E comunque non riapriremo nulla se non abbiamo certezze dal punto di vista sanitario. Il lavoro è in corso. Probabilmente andremo con questo screening anche oltre la data prefissata come data possibile di riapertura. Andremo probabilmente ad una proroga anche di questa data, ma in ogni caso tranquillizzo tutti quanti. Non apriremo nulla se non abbiamo condizioni di assoluta tranquillità. Punto.